Sono arrivati l'inverno, il freddo e la prima neve, un idillio che può essere ingannevole e che nasconde pericoli inaspettati. Spalar la neve soprattutto per le persone che abitualmente non si muovono molto, è una delle cause più comuni di infarto cardiaco. Il cardiologo Dr. Michael Zellweger dell'ospedale universitario di Basilea tratta circa 4.000 pazienti cardiopatici all'anno utilizza 350 catheteri cardiaci e 1.500 stent. Non tutti i sintomi indicano necessariamente un infarto cardiaco. È importante che il paziente interpreti subito i sintomi correttamente. Ci sono due situazioni di scendere. Un'altra cosa, quando una c'è una c'è una c'è una c'è una c'è una c'è un oltre le schmerze. Quando la schmerza, klingono le schmerze in regio attraverso meno minuti fino a circa 10 minuti o un po' più lungo. In questo modo dovremmo rispondere, se che il Hausarzt o il Herzspezialista sui, per la schmerza di rispondere, se c'è una Minderdurblutazione di una Herz-Rans-Gefess-Verrengione in questo modo. ciò che ciò che si può fare, che questa attraverso la un'alleggiamento che in questo caso si è un'alleggiamento del Herz-Rans-Gefess e che si è un'alleggiamento e questo è un'alleggiamento e che fa anche di questo tipo di schmerza come ho detto, magari anche più e anche anche con l'Ambilità, 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 l'Ambilità. E queste schmerze stanno in grado a delle schmerze che ho già scritto, che ho detto prima. E questa è una situazione assoluta. Ciò è necessario, poter farlo 144 a tutti i ragazzi, poter farlo più schnell in un spitalo. Perché la parola è importante, che il muscolo è finito con la tempo, il tempo è il muscle. E che più di più che il corpo è in grado di essere l'aglamento, più di un attenzione 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 di un attenzione. Il primo attenzione fino all'arrivo dei attenzione è di extrema importanza. Se il paziente è reattivo, di solito è sufficiente riscaldare il corpo, ad esempio con una coperta e sollevare la parte superiore del corpo. Tuttavia, se ci sono delle aritmie, è necessario agire immediatamente. Trèsando quando un amore viene com' un attenzione di un attenzione di un attenzione di rotania di un attenzione di confortare, Per quanto riguarda, in cui si sono benachrichto, si mettono una massaccia con i Reanimazione, in modo che la circulazione del sangue e che il sangue di un sangue e che il sangue da l'ambulanza. Soprattutto quando l'ambulanza è arrivata, si mettono il sangue da l'ambulanza in attacca. Ma questa fase serve per evitare. E soprattutto in soli situazioni hanno persone, con un ruolo di questo livello che hanno un ruolo molto importante. Il rischio di un infarto cardiaco aumenta soprattutto con i fattori di rischio come il fumo, l'hypertensione, la glicemia alta e i livelli di colesterolo troppo elevati. Quindi è anche la familiare genetica veranlaggazione, che non può influenciare. Ci sono diverse gruppi, in cui risikofattori più vorki, come per esempio l'Äbergewicht, in cui l'hochissima l'hochissima, 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 l'hochissima e l'hochissima l'hochissima che l'hochissima può essere che si sviluppi una l'hochissima con gli altri. Per ridurre la probabilità di un infarto cardiaco si deve smettere immediatamente di fumare, si deve adottare una dieta sana, fare esercizio fisico ed evitare lo stress e il sovrappeso. Dopo i 40 anni un controllo generale dello stato di salute è un'altra misura preventiva importante. Chi lavora all'aperto in inverno facendo sport o spalando la neve deve sempre riscaldarsi bene prima. Ulteriori informazioni sull'infarto cardiaco sono disponibili anche sulla piattaforma online TCS MyMed.